a tutti gli amici bike l'oggio ha deciso di prendere la sette è quella strada che da Reggio arriviamo ad Arezzo 7 ponti vedete ci sono 7 ponti è una strada piena di curve bellissima, un panorama stupendo e l'asfalto abbastanza buono mi trovo ora non so su quale ponte Buriano si va al sesto non lo so è quello della Gioconda comunque qua è dove Leonardo ha deciso di prendere la Gioconda questa strada è molto bella in Inverno perché ci va a tezzoni se volete non aver paura di trovare fai di stagliarmi vi consiglio di fare questa strada a Ficarezza ciao alla prossima grazie a tutti grazie a tutti